Un altro artista che sta dipingendo, come si dice, i portoni dipinti in Vialetto. E dove sei tu? Miletto, Miletto. Miletto, c'è un altro artista all'inizio che è di Miletto. Come ti chiami? Fortunato Pedrullà. Fortunato Pedrullà. Questa stai riportando tu? Diciamo delle scene di paese, con dei personaggi di paese. Quindi uno è un figlio da suba e un prevede nostro Pietro Paolo. Esatto, è una persona abbastanza apprezzata. Sì, è stato veramente un parroco di valore e di grande religiosità. Quindi a noi ci ha imparato tanto, anche perché a questo mio mi ha detto il battesimo, la comunione e tutti i sacramenti. Pure un matrimonio, non mi ha dato io. E invece qua giù sotto che stai riportando? Ah beh, scende come in tutti i paesi. I comari che fanno pane su, o non è sbaglio? Sì, sì, sì. Quindi si assomigliano all'associazione Asfalantea. L'associazione Asfalantea sta riprendendo proprio che tu disegnaste. Ok, mi fa piacere che ci sono delle associazioni che promuovono la tradizione. Ecco, sì, sì. E quant'altro. E invece che assolta mi sembra una, come si dice, un personaggio che io conosco. Allora, ho trovato, non lo so, delle immagini informando e poi si varia sul web. Ma è sicuramente cliccato sul buon sito di Asfalantea. Non lo so, non lo so, io non sono molto sola. Chiede, è una signora che io, della somiglianza, mi sembra che è cumaranna. Non lo so, non la conosco, solo che quando ho visto... È una collaboratrice dell'associazione Asfalantea. L'ho vista molto, un colto di giallo indiano. Sì, perché, come si dice, una pagina di Asfalantea ormai diventa una pagina seguita, che ringrazio a tutti. E invece questo personaggio qua. Mi ha notato che si chiama Cumare Francesca. Cumare Francesca, infatti, ti lo dico subito, Cumare Francesca è una molenata. Ok. E perché è anche un personaggio di Zungri, perché all'epoca avevano un molino. E un molino è importante per tutti, perché immaginavano la farina, e la farina se faccio il pane, che gli ha, grazie a Dio. Siamo che mi ha colpito molto l'espressione che aveva nel mondo, poi ho saputo un po' la storia di questo signore. È molto affascinante come storia, anche se è tragica, molto brutta. Sì, se tu, non so se sei qua la pagina di Asfalantea, con te ho pura vita soli. Tra i nuovi video, che io non ci sono vicini, con te ho pura vita soli. Comunque, onore a merito a tutti i personaggi che riportaste. A Zia Francesca, Cumaranna, chi da non lo so, qui è perché non conosco sempre una persona di Zungri. Oggi era di Mastropino Costanzo, forse. Ah, so, c'era di Mastropino Costanzo. Ah, bene, sì, sì, sì. E ancora, se no, diciamo, tutte tecniche diverse. Sì, sì, sì. Infatti, partendo dal basso, c'è questa signora. Non mi ricordo il nome, però, anche conosco. La signora, mi ricorda un po' molto indiano, diciamo. Mi è piaciuta portarla con, riportare questa tecnica abbastanza. Ecco, e poi da sopra abbiamo Opreviti. Sì, sono scena con personaggi di Paese. Opreviti Pietro Paolo. Che raccontano le varie tradizioni, le varie voze del Paese, le varie storie, proprio, dei personaggi di questo Paese. Benissimo, grazie da descrizioni, personaggi che io conoscio e collaboravo con me. Sì, a San Francesca, a San Francesca vengono facciamo saponi, con Maranna, con Labbara, fin magari è nata, e ho previto ai tanti ricordi. Come si dice, Battesimo, Cresimo, tutti i sacramenti riceviamo il suo previto nostro. Pietro Paolo. Va bene. Grazie e buona giornata e buona continuazione. Buona giornata anche a voi.